Buon sabato mattina a tutti voi, benvenuti a mattino 6, la rassegna stampa inizia subito con i giornali regionali e iniziamo dal centro, edizione di Pescara, questa la prima pagina, l'asse riapre subito un altro stop, l'apertura, mercoledì ripristino della circolazione poi carreggiata a doppio senso. A centro pagina, allo zoo Parco Larupe di Civitella Casanova è nata la Leonessa d'Abruzzo, si chiama Sciba e ha due mesi e vedete la fotografia della piccola Leonessa. Poi nelle cronache di spalla chiesti 200 mila euro da Alfonso Cittapettinari, la causa è d'oro e poi l'impianto provinciale della piscina volta, lavori finiti ma l'impianto resta chiuso. Sotto la fotonotizia, i rissi inchiodano l'assassino, siamo alla cronaca nera, in particolare all'omicidio di Penne, il sangue del pensionato sulle scarpe del ragazzo fermato. E poi nello spazio delle idee, un richiamo dal nazionale, l'editoriale di Bruno Manfellotto, Roma cerca onestà e competenza, il riferimento e alle dimissioni annunciate dal sindaco di Roma Ignazio Marino. E poi vedremo nello spazio dedicato ai quotidiani nazionali, più approfonditamente anche questo argomento. 15 righe nel taglio basso, sempre della prima pagina del centro, firmato da Luigi Di Fonso, hashtag io so fare questo, il talento in un video. E andiamo anche sotto la testata del centro e ovviamente il calcio in primo piano, essendo sabato e dunque weekend dedicato al pallone. Serie B domani sera, il derby tra Ascoli e Pescara, allenamenti spiati per Pescara ed Ascoli, Oddo rilancia Bruno. E poi c'è Verratti alla guida dell'Italia dopo il forfè di Pirlo, questo pomeriggio alle 18 a Bacu, l'Italia tenterà l'ingresso anticipato negli europei. Andiamo avanti ancora con il giornale, adesso andiamo a vedere le altre prime pagine provinciali del centro, iniziamo da quella di Chieti. Vediamo insieme la prima pagina, il titolo di apertura, stop definitivo al prof Tenaglia. Chieti e per di sabatino l'ASL si rifiuta di pagare una presunta vittima. Nelle cronache di fila da 208 milioni, carichieti, tempo scaduto per ripagare. Poi tagli della ASL in Lanciano, ambulanze al posto di sei guardie mediche. Sotto la fotonotizia della leonessa Sciba, sparita la statua della Vergine a Madonna del Freddo, i residenti l'avevano comprata due anni fa. Andiamo anche sotto la testata del centro, a vasto pugliesi pendolari dei furti di macchine inseguiti e presi. ruba un'auto e sperona i poliziotti, la polstrada lo intercetta in autostrada con l'auto rubata poco prima e l'audro si ferma, ma poi con un guizzo sperona la volante della stradale. Gli agenti feriti lo inseguono e poi lo arrestano. Cambiamo ancora prima pagina, adesso andiamo a vedere insieme, sempre sul centro, la prima pagina della edizione di Teramo. Dunque andiamo ad osservare anche qui quali sono gli argomenti scelti dal centro per l'edizione Teramana. Interventi al cuore in metà tempo, il titolo di apertura che riguarda la sanità. Al Mazzini le prime operazioni mini invasive non servono nemmeno i punti. E poi sotto la testata, prima di vedere le cronache, in campo decine di soccorritori. Ieri mattina, poco dopo le 10, i residenti della zona intorno a Pietracamela hanno sentito un boato sul Gran Sasso, hanno dato l'allerta per un possibile disastro aereo. In realtà è stato un falso allarme e comunque si è messa in moto tutta la macchina dei soccorsi. Una macchina dei soccorsi ovviamente che ha avuto anche un costo per la collettività. La motivazione di tutto questo è un jet che è andato oltre il muro del suono. Dunque il giornale scrive, ecco spiegato il botto. Dopo quattro ore di allerta in cui è stato allestito un campo base a Pietracamela, l'aeronautica militare ha fatto sapere che era in corso un'esercitazione. Insomma il boato è stato causato dalla rottura del muro del suono, come vi ho poc'anzi detto. Andiamo a vedere anche nelle cronache. Un giovane di Campli, violenze e abusi sulla ex, deve scontare tre anni. E poi nello sport, oggi con la lupa Roma, il Teramo in campo, torna Cenciarelli per il rilancio. Andiamo a vedere anche sotto la fotonotizia della leoncina Sciba. A Santomero il giudice riassume il capo dei vigili. A Torricelle i migranti formano una squadra di calcio e poi a Roseto un solo candidato, niente primarie nel partito democratico. Andiamo avanti, ultima edizione provinciale del centro, quella del capoluogo di regione. Dunque andiamo adesso all'Aquila. Andiamo a vedere insieme anche la prima pagina del centro aquilano. Morto nel bosco è colabrese. Questo è il titolo di apertura. Trovato in Liguria il DNA dirà se il giovane scomparso da Sulmona. Ritroviamo sotto la testata anche la notizia del boato sul Gran Sasso e del falso allarme per una sciagura aerea. E poi nelle cronache ad Avezzano pistola rubata nell'abitazione di un poliziotto. Sempre ad Avezzano tre denunce per il pestaggio del calciatore. Invece sotto la fotonotizia, Casalesi chiesto il processo. L'Aquila appalti sospetti imputati di Tella, Serpetti e Gizi. Cambiamo testata. Ora andiamo sul messaggero per vedere anche qual è l'apertura della prima pagina dell'inserto Abruzzo. Apre con Sanitopoli il processo di secondo grado che si sta tenendo in corte d'appello all'Aquila. Angelini concusso non corrotto. Sanitopoli in appello. Come detto, la difesa chiede l'assoluzione, rostaggio del sistema politico sui ricoveri legittimi. Come è possibile dirlo se non è stata acquisita una cartella clinica? Dunque questi alcuni degli argomenti della difesa che riguardano Angelini. E poi all'Aquila l'inchiesta Ompi. Il GIP, la del Principe, resta sospesa. C'è il rischio che le condotte illegittime ad oggi censurate possano essere reiterate. Con poche righe scritte a mano, il GIP del Tribunale Guendalina Buccella ha confermato in pieno le richieste avanzate da IPM e PQ. Andiamo a centropagina adesso. Vasto, scatenata la mala del Foggiano, furti d'auto, 5 arresti e 3 feriti. E questo è il bilancio di due operazioni nel Vastese per un tentato furto di un furgone e un inseguimento scaturito ancora per un furto di auto. Sempre a centropagina, precari, la terza via funziona, le prove di bando e rinnovi. L'Aquila si tratta per una deroga di tre mesi in attesa di selezione concorsia preferenziale. Andiamo a vedere anche di spalla. Si parla dell'aeroporto d'Abruzzo. Crescita record in nove mesi. E poi sotto la testata, giorno e notte, eventi al Colonna e all'Aurum celebrano l'arte contemporanea Pescara. E poi il calcio di Lega Pro, l'Aquila e Teramo giocano in casa, servono i punti per ripartire. E ancora il calcio, no scusate, Pescara. Paglione paga in tempo reale, vedrete, riaprirò Guerino. Il restyling è bloccato dallo stabilimento balneare. L'imprenditore salda il debito per il canone e conta di fermare la revoca della concessione. Andiamo adesso sulla città, il quotidiano della provincia di Teramo. Andiamo a vedere anche la prima pagina della città. Il rettore bacchetta il sindaco. Questo è il titolo di apertura. Dopo il caso giurisprudenza, il campus chiede maggiore vicinanza a Palazzo Orsini. Poi il maltempo nella fotonotizia, pioggia e temporali in arrivo, pericolo frane, massima allerta. Il titolo scelto dalla città e vi ricordo che tra poco, insomma, tra una decina di minuti ci collegheremo con il nostro esperto Giovanni De Palma per avere tutti gli aggiornamenti sulle condizioni meteo nella nostra regione. E poi di spalla, beng sonico in montagna, falso allarme aereo costato, migliaia di euro. E poi Santo Onofre, abusi sessuali, 25enne, finisce a Castrogno. E ancora Goran Kuzminak, Ivan Graziani aveva una vera anima rock. Sotto la fotonotizia, fondazione, le terne sono fatte, comune Ateneo, provincia e Camera di commercio hanno scelto i nomi. Poi c'è l'editoriale, firmato dal direttore della città Alessandro Misson, Mastromauro, la Cassandra, questo, il titolo. Nel taglio basso, Teramo dalla regione via libera al polo scolastico e poi il calcio con la partita del Teramo contro la Luparoma, Vivarini costretto a cambiare registro, occhio alla classifica. Andiamo anche sotto la testata e troviamo una notizia da Roseto degli Abruzzi, figuraccia democratica primarie senza candidati. Adesso apriamo lo spazio dedicato alla rassegna nazionale, andando a vedere le prime pagine dei principali quotidiani italiani. Iniziamo dal Corriere della Sera. A centro pagina, i morti della nuova intifada. Crisi in Medio Oriente, una settimana di violenze con israeliani accoltellati, poi le rappresaglie, scontri al confine, uccisi sette palestinesi. Hamas dice liberare Gerusalemme. E poi la fotonotizia, il premio per la pace, il quartetto del dialogo tunisino, il Nobel anti-ISIS alla primavera araba. Andiamo anche nel taglio alto, incontri e favori nei quaderni di Marino e dunque si parla della crisi di Roma Capitale. Il sindaco rinvia le dimissioni a lunedì. Andiamo ancora avanti con la Repubblica. La resistenza di Marino sfida con il PD. Ancora Roma Capitale in primo piano, tentativo di creare un'aggiunta bis. Il premier ora deve andarsene. Andiamo a centro pagina adesso con la fotografia, la terza intifada in fiamma israele. Morti sette palestinesi, Hamas e guerra. Accordo per il governo in Libia via ai blitz anti-scafisti. Andiamo avanti. La stampa. PD dopo Marino, addio primarie. Renzi, non c'era un'alternativa alle dimissioni. Attacco del Vaticano, lasciate solo macerie. Il sindaco ieri ha celebrato nozze in Campidoglio. Sto molto bene. Ha detto, cambia la strategia per le comunali di primavera. Come detto, addio alle primarie, secondo la stampa. Poi a centro pagina una notizia curiosa. Alla Camera, la proposta che obbliga a distinguerlo da quello precotto su gelato, arriva la legge per tutelare il pane fresco. Andiamo ancora avanti. Il sole 24 ore. La borsa in primo piano poste a proda a Piazza Affari tra 6 e 7,5 euro ad azione. Questa è la quotazione di poste italiane. Il tesoro andranno da 2,7 a 3,7 miliardi di euro. Ai dipendenti 14,9 milioni di azioni. Via libera della Consob, da lunedì collocato fino al 38,2% del capitale, 30% al retail, 70% ad investitori istituzionali. Dunque questa è una manovra importante anche per l'assetto generale del nostro paese. Poi il richiamo di draghi ai paesi ad alto debito. Rischi quando aumenteranno i tassi. Pronti ad estendere il quantity easing. Visco BC è pronta ad agire. Padoan, il ministro delle finanze in Italia. Consolidamento avanti. Crescita migliore del previsto. Andiamo ancora avanti. Il messaggero, il piano Renzi, per il dopomarino. Premier, le sue dimissioni senza alternative. Ma il sindaco resiste e rinvia tutto a lunedì. Pronto un comitato d'emergenza con nove commissari per il giubileo imminente. L'ipotesi è il voto a giugno. A Gerusalemme altri due israeliani puglianati. Israele in l'entifada dei coltelli. L'esercito uccide sette palestinesi. Ancora venti di guerra dal Medio Oriente. Poi fisco. Arriva la scadenza unica. Tax day per IVA, IMU e IRPEF. Piano del governo. Tutti i pagamenti concentrati. Il 16 maggio. Andiamo ancora avanti. Il giornale. Qui siamo nel campo dei quotidiani piuttosto schierati. Questo è il centrodestra. Trema il PD. Pizzini di Marino. Sinistra nel panico per le possibili rivelazioni del sindaco. Intanto è giallo sulle dimissioni. Non sono ancora arrivate. Anche il Vaticano lo seppellisce. Lascia solo macerie. Dunque una bocciatura senza mezzi termini. quella del giornale per quanto riguarda Marino. E poi in un video i soldi pagati dall'Italia all'ISIS. Accuse anche per il rapimento per Lizzari. Al Jazeera sbugiarda il governo e mostra le banconote del riscatto per Greta e Vanessa. Andiamo ancora avanti. Libero. Sempre campo centrodestra. Dimissioni rinviate. Marino minaccia ancora. Il sindaco smentisce le frasi ricattatorie ma briga per restare. Essel apre le porte al tentativo. Se fallisce l'allegro chirurgo vuole farla pagare al suo partito presentandosi alle elezioni con una lista civica. E poi a centropagina in questa vignetta le prove delle bugie dal governo 15 milioni ai terroristi. Su Al Jazeera la consegna dei riscatti per Quirico e per Greta e Vanessa. Andiamo ancora avanti. Il tempo. La notizia ovviamente riguarda ancora il sindaco Marino. Torna subito il cartello che espone il quotidiano romano. I PM indagano sui viaggi. Il Vaticano attacca. Marino lascia macerie. E lui prende tempo. Prova a resistere. E rimane dalle dimissioni. A lunedì. Poi il giallo del blitz per liberare i Marò. Indiscrezioni su un intervento fallito e sul riscatto pagato per Greta e Vanessa. Quindi si parla degli esteri. Di spalla la regione Lazio in tribunale. 77 consiglieri in guerra per il vitalizio. Andiamo ancora avanti. Il mattino di Napoli troviamo una notizia interessante che riguarda le nuove regioni. Ecco il piano per un'ipotetica rivisitazione delle regioni italiane nell'ordine del giorno approvato dal Senato. Riforma costituzionale entro il 2016. 8 su 20 regioni spariscono. La campagna arriva a Sabaudi e Fiugi. E troviamo anche la macro regione adriatica con Marche, Abruzzo e una parte del Lazio e del Molise. Andiamo ancora avanti. L'unità adesso siamo nel campo del centro-sinistra. In particolare il quotidiano che fa riferimento al Partito Democratico. E ora voltiamo pagina il titolo di apertura. Renzi Marino ha fatto bene a dimettersi. Voler bene a Roma significa sistemare strade e servizi. Parentopoli, degrado, corruzione. Gli anni di Alemanno che hanno portato la grande bruttezza. Vedete, cambia la lettura di quanto sta accadendo a Roma. E poi a centro-pagina le riforme. All'ultimo metro approvati tutti gli articoli. Meno tre alla fine del bicameralismo. Martedì, infatti, dovrebbe esserci il voto complessivo sul provvedimento. Poi vedete la fotografia di Matteo Renzi che risponde insomma alle curiosità dei lettori e dell'unità. La disoccupazione, il terrorismo, l'Imu, la scuola, Matteo Renzi risponde ai lettori. Andiamo avanti. Il fatto quotidiano. Ancora Roma Capitale in primo piano. Marino prima vendetta. Vado al processo mafia capitale. Il sindaco gioca sulle dimissioni di lunedì. Vuole resistere e presentarsi il 5 novembre in tribunale con la fascia tricolore. I PM valutano se indagarlo. Il PD esplode. Rissa, Renzi, Orfini, Toto, candidati e timori di colpi di Cogda del chirurgo furioso. Così viene definito. E poi sotto la testata nel taglio alto antimafia su Unicredit. Palenzona tutti i contatti con l'uomo di Cosa Nostra. Incontri e affari con il sodale di Matteo Messina Denaro. Adesso andiamo ad aprire anche una pagina dedicata allo sport con i quotidiani nazionali. Iniziamo dalla Gazzetta dello Sport. Partita dell'Italia in primo piano. Conte chiudi i conti. Questo è il gioco di parole della Gazzetta. Questo pomeriggio alle 18 ci sarà la partita Azerbaijan-Italia che vale la qualificazione. Se vinciamo a Baku andiamo all'Europeo. Altrimenti c'è il rischio di giocarsi tutto contro la Norvegia. Martedì il CT glissa sul futuro. Adesso non è una priorità. E poi c'è l'intervista al Trap. Giochiamola. Verratti prenditi l'Italia dopo il forfè di Andrea Pirlo. E poi paura per la Juventus. Morata si è fatto male. Un colpo al Perone ma fortunatamente non si è fratturato dalla Spagna. Altro guaio per la Juventus. E poi il moto mondiale. Domani alle 7 in Giappone. Nuovo duello con Lorenzo. Marquez Rossi mondiale. Il campione uscente sono Valentiniano. La sua gestione è perfetta. Andiamo sul Corriere dello Sport. Adesso Italia. Andiamo in Europa. Questo è l'invito del Corriere. La nazionale in Azerbaijan. Se vince passa. La partita sarà trasmessa sul Rai 1 alle 18. Pirlo intanto non ce la fa. Conte carica gli azzurri. Qualifichiamoci subito. Il contratto dopo. Tavecchio. Spero che il CT resti. E ancora. La Spagna e la Svizzera vincono e si qualificano. La Slovacchia crolla. Ora rischia grosso. Russia quasi fatta. E oggi per l'Olanda è l'ultima occasione. Ancora a tu per tu di Walter Veltroni. Del Piero si diventa allenatore. Fino a tre anni fa non ci pensavo. Oggi invece Alex fa un pensierino anche a questa possibilità. E poi sotto la testata. Morata, allarme Juve ma nessuna frattura. K.O. in nazionale. Tanta paura. Forte rischio per l'Inter. Andiamo sul quotidiano. Tutto sport stregato da Dybala. Messi in corona il talento della Juve. E poi sotto la testata. Ma che contratto io penso all'Europa. Baku. La partita della nazionale italiana contro l'Azerbaijan. Siamo pronti per il collegamento con il nostro esperto Giovanni De Palma di abruzzometeo.it.org. Buongiorno a te Giovanni. Buongiorno Alfredo. Buongiorno a te e a tutti i telespettatori. E dunque già da ieri è scattata l'allerta meteo. Noi insomma come sempre avevamo dato aggiornamenti puntuali sia nel corso di mattino 6 che dei nostri telegiornali. Ovviamente ti chiedo gli ultimi aggiornamenti a te. Sì Alfredo. Siamo attualmente interessati da una perturbazione proveniente dall'entroterra algerino. Perturbazione atlantica che inizialmente aveva raggiunto proprio l'entroterra algerino. Adesso si è spostata verso la nostra penisola dove si è formata una vasta circolazione depressionaria che sta dando luogo a piogge diffuse anche sulla nostra regione. Anche se al momento non ci sono stati fenomeni intensi. Nelle prossime ore quindi nel corso della mattinata assisteremo comunque anche a una probabile temporanea attenuazione dei fenomeni. Ma attenzione perché tra la tarda mattinata e il tardo pomeriggio potranno manifestarsi ancora una volta a densamenti ancora più intensi con rovesci localmente anche a carattere temporalesco. A partire dalla Mazzica, dall'Aquilano in estensione poi verso le restanti zone. Poi la perturbazione al terreno tenderà gradualmente ad attenuarsi e a spostarsi verso i vicini Balcani. Tant'è che già da stasera potremo avere già un graduale miglioramento del tempo con un'attenuazione dei fenomeni. Certo non è che tornerà il terreno però termarranno degli annuvolamenti ma non ci saranno più le precipitazioni diffuse che avremo soprattutto tra la tarda mattinata e il tardo pomeriggio. Un ulteriore miglioramento e questa è una buona notizia è atteso soprattutto nella giornata di domenica in particolar modo nella seconda parte della giornata di domenica perché questa figura depressionaria si sposterà ulteriormente verso i Balcani. Ebbene da domenica pomeriggio le schierite saranno via via più anti anche se c'è da tendersi una graduale diminuzione delle tensalature. Per effetto dei venti che sono previsti in rinforzo, venti settentrionali in rinforzo soprattutto tra stasera e nella giornata di domenica. Poi assisteremo al freno a un temporaneo miglioramento del tempo nella giornata di lunedì ma poi nuove perturbazioni atlantiche sembrano destinate a rilungere la nostra penisola perturbazioni che con tutta probabilità favoriranno una sensibile diminuzione delle temperature a partire da mercoledì e nei giorni successivi. Ovviamente si tratta di una tendenza questa da confermare nel corso dei prossimi giorni, Alfredo. Ecco Giovanni, i comuni hanno diramato l'allerta e si sono attrezzati. Cosa prevede la macchina della protezione civile in questi casi? Anche per far capire a chi ci segue cosa si muove poi dietro un'allerta meteo. Eh sì, vi assicuro che insomma c'è un grande lavoro quando scattano l'allerta meteo da tutta la protezione civile in primis ma anche ovviamente le autorità competenti predispongono agli interventi sul territorio sia prima della perturbazione sia durante l'arrivo di queste piogge intense soprattutto nelle situazioni, nelle zone critiche di una città in particolar modo nei sottopassi per evitare appunto di creare, di assistere a situazioni di pericolo. Comunque c'è un grande lavoro, io dico sempre la protezione civile, anche gli uomini della polizia, dei carabinieri ma tutti, dei vigili del fuoco, tutti lavorano devo dire in maniera in maniera efficiente e incredibile perché anche di notte per garantire la sicurezza la sicurezza dei cittadini al freddo. Grazie a Giovanni De Palma, ovviamente ti ritroveremo nel corso delle edizioni del telegiornale, abbiamo visto in precedenza grazie alla regia di Gianni D'Areo il sito di Abruzzo Meteo che ovviamente vi invitiamo a tenere sempre sotto controllo per tutti gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni meteo e poi c'è la pagina Facebook di Abruzzo Meteo, la vediamo in questo istante e un'ulteriore pagina Facebook, quella personale di Giovanni De Palma, questi tutti i riferimenti per essere sempre aggiornati sul meteo, grazie ancora Giovanni e buon lavoro. Grazie Alfredo, una buona giornata a te nonostante la pioggia, un buon fine settimana a tutti i telespettatori di TV6. Grazie ancora a Giovanni De Palma, noi ci fermiamo per il break pubblicitario, poi torniamo con la seconda parte di Mattino 6. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6, torniamo ai quotidiani regionali e iniziamo dalla pagina Abruzzo del Messaggero. Angelini va assolto, era sotto scacco del sistema politico, questo il riassunto della udienza di ieri nel processo Sanitopoli che in appello all'Aquila, la ringa del legale del grande accusatore, ricoveri illegittimi, non è stata acquisita una cartella clinica, dunque questa la difesa di Vincenzo Angelini, patron, ex patron della clinica Villapini e grande accusatore in questo processo che vede tra gli imputati anche l'ex presidente della regione Abruzzo Ottaviano del Turco. E poi le piogge forti ed estese oggi su tutta la regione, queste le previsioni e lo abbiamo sentito poco fa dal nostro esperto Giovanni De Palma e poi ancora 300 alpini oggi a Lanciano per una maxi esercitazione di protezione civile, simulazione di una scossa di magnitudo 4,5 nel centro storico, poi delle sondazioni del fiume Sangro ed incendi boschivi, infine evacuazione dell'istituto tecnico industriale. Oggi per Anxanum 2015 sono giunti città 300 volontari provenienti da Abruzzo, Molise, Toscana, Puglia e Lazio. Andiamo adesso sul quotidiano Il Centro, andiamo a vedere anche la lettura che dà il centro del processo Sanitopoli. Angelini fu ricattato e deve essere assolto, Sanitopoli, l'avvocato Tucci, le sue accuse mosse a Del Turco sono credibili, hanno respinto le responsabilità anche i legali di due banche coinvolte in questo processo. Poi c'è questa notizia che riguarda l'aeroporto, cresce del 6,3% il traffico passeggeri nel periodo gennaio-agosto 2015. Andiamo avanti sempre restando al centro e apriamo la pagina di Pescara. Asse attrezzato, intervento dell'ANAS, riapre la corsia chiusa dopo la frana, mercoledì ripristino della circolazione nel tratto Chieti-Pescara di fronte al cementificio ma in arrivo un altro stop. Il vice sindaco di Pescara Enzo Del Vecchio dice a giorni la carreggiata diventerà a doppio senso di marcia per consentire il rifacimento dell'asfalto in direzione Chieti. Ieri poi tra l'altro c'è stata anche la presentazione del piano triennale delle opere pubbliche. Prima di vedere gli altri articoli sul quotidiano e il centro andiamo proprio a vedere il servizio di Paolo Renzetti. Del vecchio piano triennale delle opere pubbliche, questa mattina in conferenza stampa avete illustrato quelli che saranno i lavori per il prossimo triennio. È un piano triennale contenuto poiché le risorse a disposizione sono molto esigue, d'altronde la situazione finanziaria induce anche a questo ormai da un po' di tempo a questa parte, non abbiamo più l'apporto della risorsa mutua e quindi tutto ciò che possiamo fare riguarda quelle risorse che riusciamo a reinvenire all'interno del bilancio comunale. Oggi ci investiamo tutto, 3 milioni e mezzo di euro che speriamo restino tale fino alla fine e ci consentiranno di reassicurare serenità e togliere criticità al territorio cittadino. In più interveniamo ancora per eliminare il residuo di qualche frana e soprattutto l'antiallagamento. Un intervento nuovo, quello non previsto nelle precedenti annualità che riguarda la zona di San Donato e quindi ci consentirà dopo gli interventi che faremo già nel corso di quest'anno di eliminare quasi completamente il problema degli allagamenti. A proposito di grandi opere vogliamo fare qualche nome? È quello che c'è sempre stato nel corso di questi anni, area di risulta, ex cofa, parco fluviale e quant'altro. Si tratta però di renderli coerenti del piano regolatore generale, cosa che non è mai avvenuto nel corso di questi anni. E allora per questo li abbiamo inseriti nell'annualità 2017 perché riteniamo oggi di svolgere un'attività di consapevolezza di ciò che deve essere lì realizzato e poi attivare le procedure di variante per renderle coerenti col piano regolatore e da quel momento in poi si dispiegano anche quelle che sono le ricerche per una finanza diversa da quella pubblica che non è in grado di sopportare un esborso di questo genere. Abbiamo sentito il vice sindaco di Pescara parlare del piano antiallagamenti e come detto oggi c'è l'allerta meteo e dunque la città è pronta per l'emergenza, scrive il centro, rafforzati i controlli sul fiume Pescara e nelle zone a rischio frane. Ovviamente speriamo che il tempo migliori e che tutto possa rientrare e finire per il meglio. E poi tra le opere pubbliche importanti a Pescara c'è il Ponte del Cielo, tanto discusso e tanto dibattuto. In carico da 29 mila euro per il progetto definitivo, il Comune affida l'elaborazione ad un ingegnere di San Giovanni Tiatino, passaggio necessario per avviare la gara d'appalto. Il tempo stringe e poi ci sono anche delle curiosità, dei commenti particolari dei lettori del centro. Qualcuno ha trasformato il disegno in una base di atterraggio degli UFO, qualcun altro l'ha fatto diventare grazie all'utilizzo del programma Photoshop, una toalette, come si vede dalla fotografia. La fantasia del popolo di Facebook si sta sbizzarrendo sul progetto del Ponte del Cielo. Ovviamente le persone si divertono anche a sbeffeggiare i progetti messi in campo. E poi l'assessore Marcheggiani, l'opera darà un nuovo volto alla Riviera, un'opera su cui però, vi ricordo, ci sono tante polemiche, soprattutto per il costo all'incirca un milione di euro, secondo le opposizioni, un costo che in questo momento il Comune non si può permettere, soprattutto per quel tipo di opera. E poi, come detto, varato il piano manutenzione per il Ponte del Mare, 300 mila euro, il tutto all'interno del piano triennale delle opere pubbliche. Andiamo avanti e parliamo di un altro argomento. Maglia del Pescara e tanta gente per l'ultimo saluto a Zazzetta, la vecchia guardia del tifo pescarese davanti alla Curva Nord, per l'addio a Domenico Zazzara, al funerale a San Cetteo, anche il sindaco Alessandrini e l'ex presidente della provincia Guerino Testa. Ricorderete Domenico Zazzara, protagonista anche qualche tempo fa di una protesta all'interno del Comune di Pescara perché non aveva l'abitazione popolare e per lungo tempo ha dormito all'interno del municipio proprio per protestare contro questa problematica. In provincia poi, sport e legalità, tavola rotonda organizzata dal CSI. Andiamo ancora avanti, restiamo sempre a Pescara, piscina provinciale del Volta, lavori conclusi ma non riapre. Impianto chiuso da tre anni, il vice presidente dell'ITIS, l'anno scolastico iniziato, siamo stati penalizzati. Il presidente della provincia colpa del patto di stabilità, tutto pronto a dicembre, ma Testa, l'ex presidente, attacca. Scendiamo nel taglio basso, contestata la buona scuola, studenti ieri in piazza contro Renzi, vogliamo farci sentire anche se la riforma è stata approvata. Andiamo ancora avanti, da Alfonso Pettinari, causa da 200 mila euro cambiando argomento, lo scontro sul Palazzo d'Oro della ASL il 24 novembre, la prima udienza in tribunale, il presidente vuole un maxirisarcimento, il grillino replica, abbiamo solo detto la verità. Secondo il governatore del Partito Democratico, è stato un attacco personale per un caso senza irregolarità. Il consigliere del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari, risponde, gli atti dell'ASL e l'inchiesta penale ci danno ragione. Scendiamo nella pagina, una mela per aiutare la ricerca, oggi e domani nelle piazze i volontari raccolgono fondi per la sclerosi multipla. E poi, Viale Pindaro, musica e cultura con Pindarock Festival, ancora Avis, domani all'Aurum, festa dei 55 anni. Andiamo avanti, Parco dell'infanzia, dopo Donciotti si accorciano i tempi, Via Tavo, il sopralluogo del fondatore di Libera, nella casa delle siringhe, dà il via al progetto di recupero. E poi ancora, Volei Femminile d'Elite, la Danunziana presenta la squadra, esordio il 17 ottobre. Andiamo ancora avanti. Scuola da 6,5 milioni per agrario ed alberghiero. Cepagatti ha approvato un progetto della Regione per costruire un nuovo istituto scolastico ed accoppare le sedi di Villareia con il De Cecco di Matteo. Sarà un edificio innovativo. Io chiedo alla Regia di Gianni D'Areo di recuperare il servizio sulle scuole innovative realizzato da Francesca Romana Testi da Trieste. Francesca Romana Testi è inviata per noi alla Barcolana 2015, ha intercettato l'assessore ai lavori pubblici regionale, Donato di Matteo e Annalisa Palozzo, che è consigliera provinciale a Pescara. Dunque, vediamo se è pronto il servizio. Si parla di edilizia scolastica e si parla di davvero una grande notizia per l'Abruzzo. Arrivano dei fondi e sono tanti. Circa 10 milioni di euro destinate a progetti di poli scolastici innovativi e aggregativi. Si passa da una fase in cui i finanziamenti erano distribuiti anche su tutti i comuni, anche su quelle scuole che tra breve andavano a chiudere, a proposte innovative e aggregative che vanno nella direzione di costruire dei pressi nuovi, moderni, per le scolaresche di più cittadine. Nell'ambito di questo progetto si sono individuate delle priorità. La prima è la realizzazione nella zona di Villarea, quindi nell'area metropolitana Pescara-Chieti, di una struttura nuova, in un'area di proprietà della provincia di Pescara, dove si realizzerà un biocambus abbinato a un settore di istruzione e di alloggio per gli studenti del settore cibo, sia l'alberghiero che l'istituto agrario. Poi ci sono interventi fatti nell'Alto Vastese, nella zona della Massica, in località Colarmele, e più un intervento, due interventi proposti sul territorio di Teramo. È frutto di un grande lavoro e di un grande interesse. È stata fortemente voluta sia dall'amministrazione provinciale di Pescara che da quella comunale di Cepagatti. Io personalmente mi sono interessata della ricerca e della segnalazione di questa scuola, che rappresenta un vero e proprio campus da adibire, anche per utilizzarlo in modo da decongestionare le scuole di Pescara. Quindi potrebbe essere utilizzato anche per gli aspetti del convitto e per risolvere definitivamente il problema della scuola alberghiera di Pescara. È una struttura bellissima, si trova all'incrocio di due province, per cui abbiamo sia la parte chietina che pescarese, ben collegata, molto ampia, e quindi ringraziamo tutta l'amministrazione regionale, in particolar modo l'assessore all'edilizia scolastica, l'assessore Di Matteo, per aver portato avanti questa mia richiesta, frutto di lavoro iniziato da mesi e mesi. Andiamo adesso sul messaggero, sempre le pagine di Pescara. Paglione, debito saldato, riaprirò il mio guerino, l'obiettivo è quello di bloccare la revoca della concessione per lo stabilimento nella zona centrale del lungomare di Pescara. E poi, omicidio Giammarino, sangue sulle scarpe del presunto killer, ad una svolta l'omicidio di Gabriele Giammarino, avvenuto il 13 settembre scorso, a Penne, a seguito di una rapina finita male, tracce di sangue appartenenti all'anziano sono state trovate dai carabinieri del RIS sulle scarpe da tennis, sui pantaloni della tuta di Mirko Giancaterino, 36 anni di Penne, ritenuto da subito l'assassino del pensionato. E poi, Mattucci e Gentile, non rispondono al GIP per quanto riguarda l'inchiesta a Bancomat, ieri gli interrogatori nel carcere di San Donato. Il servizio. Sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Avete chiesto, diciamo così, la deroga degli arresti? No, no, niente. Nessuna richiesta? Nessuna richiesta. Le condizioni dei suoi assistiti come sono? Buone, grazie a Dio. Li saluto, buongiorno. Ma lei ha parlato che non è assistito? No, ci parlo tutti i giorni. Che lei dice? Sono problemi, sono segreti professionali che non posso riferirvi. Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Mauro Mattucci ed Antonio Gentile arrestati mercoledì mattina nell'ambito dell'operazione Bancomat che ha portato altre dieci persone agli arresti domiciliari e che ha prodotto oltre 70 indagati e il sequestro preventivo di beni e quote societarie per quasi 100 milioni di euro. Le ipotesi di reato sono associazione per delinquere finalizzata alla consumazione di reati tributari, truffa ai danni dello Stato e di istituti di credito ed evasione fiscale. Il GIP Gianluca Sarandrea, i PM Cristina Tedeschini e Barbara Del Bono sono entrati nel carcere di San Donato attorno alle 10.30 e sono usciti dopo circa mezz'ora. Giusto il tempo di verbalizzare l'indisponibilità a fornire risposte da parte di Mattucci e Gentile assistiti dall'avvocato Giancarlo Carlone. Mattucci, patron del Tortuga di Pescara, è considerato dagli inquirenti il dominus di un sodalizio criminale operante in Abruzzo e in altre regioni italiane nel settore dell'edilizia e del recupero dei rottami ferrosi. Gentile, secondo l'accusa, gestiva i rapporti con le banche ed era a capo di una holding che acquisiva società per svuotarle e poi rottamarle. A partire da mercoledì mattina saranno interrogati in procura gli indagati che si trovano agli arresti domiciliari. La pagina di Montesilvano del centro adesso. Edificio nel degrado è seguita la pulizia Stella Maris e vie disperati, ma torneranno ancora il presidente della provincia. Il problema degli accampamenti esisterà fino a quando non decideremo cosa realizzare nell'ex colonia. Ed oggi intanto arriva l'albero artistico in programma questa mattina alle 11 in occasione della giornata del contemporaneo e l'inaugurazione dell'albero della cuccagna allo Stella Maris. E poi la sistemazione dell'area saline finiti i lavori alla foce con gli argini senza rifiuti. Nel taglio basso Ranalli nuovo mercato con i contadini il comune autorizza il quinto appuntamento in città ogni mercoledì bancarelle davanti la chiesa di San Raffaele. Torniamo adesso sul messaggero e andiamo nella pagina di Chieti. Caos, ciapi, 3 milioni per ripartire o è la fine? I dipendenti senza stipendio da 17 mesi debito record struttura con l'elettricità al minimo manca il riscaldamento. E poi gioco d'azzardo corsi per fare prevenzione Commercio scrive ad Alfonso e chiede una legge ad hoc. Andiamo nel taglio basso Campus spiragli positivi per la riapertura all'università studentato e il vertice in comune tra IMS e proprietà. E poi il raid rubata la statua di Madonna del Freddo furto sacrilego presa di mira alla rotonda infuriati i residenti. Andiamo nella pagina di Lanciano Vastortona corso bando di gara o di missioni l'assessore Sasso sui lavori nel cuore del centro storico di Lanciano conto di pubblicare tutto entro ottobre altrimenti vado via nelle traverse spunte il nuovo arredo urbano da 40 mila euro ma compaiono anche striscioni ironici con scritto la grande bruttezza i commercianti chiedono chiarezza vogliamo sapere quale è il reale progetto del comune Avvasto furti d'automobili arresti e feriti la mala del Foggiano è scatenata presi in quattro mentre rubano un furgone sulla 14 la stradale insegue e blocca un uomo poi sempre a Lanciano ebay arrestato il truffatore da record dovrà scontare in carcere un cumulo di pena divenuta definitiva di tre anni e un mese di reclusione Gian Domenico Larne 41 anni arrestato su decisione della procura Roma è stato al centro di truffe anche storiche su ebay oltre a rispondere di minaccia lesioni personali e danneggiamento scendiamo nel taglio basso d'Ortona asili nido arrivano rimodulate le tariffe presto le ruspe in via della libertà l'esecutivo d'Ottavio subito al lavoro rivisto anche il regolamento sul personale poi a vasto balneabilità il Movimento 5 Stelle denuncia le condizioni delle acque l'estate è finita ma per i grillini la gestione della vicenda non è certo acqua passata andiamo adesso sempre restando al messaggero sulla pagina Aquilana cronaca giudiziare in primo piano del principe sospesa non si torna indietro il GIP Buccella accoglie le richieste dei PM Picuti e Gallo c'è il rischio di reiterazione delle condotte illecite pronto anche il ricorso al Tribunale della Libertà ancora nulla sul destino del segretario Pirozzolo che resta a riposo rimane valida la misura cautelare dell'allontanamento dal lavoro della dirigente finita al centro dell'indagine la difesa respinge gli addebiti sulla mazzetta era solo un prestito offerto in passato al traslocatore e poi caso confartigianato Lombardo e Fulvi per la Corte dei Conti una chiara condotta spregiudicata il sequestro di 121 mila euro da parte delle fiamme gialle ad ex presidente ed amministratore delegato collegati alla presunta truffa dei corsi fantasma andiamo avanti mutuo per i morosi la prossima indagine è nel cede il credito delle utenze a banca sistema il comune chiede un finanziamento in attesa che le bollette vengano pagate noi con Salvini attacca delibera di luglio illegittima ritilatela e a settembre i proventi degli incassi non coprono la rata mensile questo è il caso case scusate il gioco di parole scendiamo nel taglio basso il nuovo maxi a palazzo Ardinghelli insiste il ministro Franceschini sulla sede museale nuovo teatro consegna dei lavori prevista per giovedì andiamo adesso adesso sulla città quotidiano della provincia di Teramo per vedere anche qualche qualche notizia dal quotidiano e dalla provincia teramana andiamo dunque a recuperare le pagine della città università il campus chiede vicinanza a palazzo Orsini dopo il caso di giurisprudenza a Pescara il rettore Luciano D'Amico bacchetta la politica e chiede più attenzione il caso giurisprudenza durante il question time è emerso il progetto di aprire una sede distaccata dell'università di Teramo a Pescara collegamenti danni il comune è sordo alle richieste di collegare l'Ateneo con autobus a misura di studente partenariati il comune si associa ad un Ateneo del Sud per un bando che poi vince l'università di Teramo un caso che ha dell'assurdo ex manicomio il rapporto è saldo invece sul destino dell'ex manicomio e sul progetto di permuta dell'ex rettorato andiamo ancora avanti fondazione l'eterne degli enti sono fatte entro metà novembre il consiglio di indirizzo di Palazzo Melatino vedrà rinnovati sette membri su dieci compreso il presidente andiamo ancora avanti tutto pronto per il Maxi Store sotto sopra oggi alle 16 il taglio del nastro andiamo ancora avanti la regione dal via libera due poli scolastici l'acqua viva di Teramo e il polo intercomunale di Colledara incassano parere positivo per il finanziamento del MIUR poi la politica l'accusa di Manola di Pasquale del Partito Democratico restando sempre a Teramo la maggioranza a Brucchi senza idee chiare sul polo trovata la fogna a cielo aperto a Fonte Baiano restiamo sempre a Teramo dopo la segnalazione dell'emittente Teleponte intervengono Ruzzo e Comune la causa e la rottura di uno scarico privato le verifiche dopo un mese di lamentele individuata l'origine del problema lungo la salita che porta al quartiere andiamo in provincia un falso allarme costato migliaia di euro ieri mattina un boato fa temere lo schianto di un aereo ma c'era un'esercitazione militare non segnalata dalle autorità locali bang supersonico il forte boato è stato provocato da un aereo supersonico che ha rotto il muro del suono ma l'esercitazione non era stata segnalata alla prefettura e per questo per diverse ore si è seguita la pista dell'incidente poi come abbiamo avuto modo di dirvi anche nel corso dell'edizione del 14 del TG6 il tutto è rientrato con i soccorritori che sono tornati alla base è chiaro che è stato un allarme che ha messo in allerta tutta la macchina della protezione civile del soccorso anche e lo ricorderete per i notti episodi che sono accaduti proprio tra la provincia di Teramo ed Ascoli per un altro incidente aereo Pietracamela nel Borgo Montano è stato allestito un campo per le emergenze per coordinare le ricerche adesso andiamo invece alla pagina dello sport andiamo sul centro e dunque andiamo a recuperare la pagina dell'Abruzzo Sport ovviamente in primo piano il derby di serie B tra Ascoli e Pescara domani sera al Del Duca previsto il pubblico delle grandi occasioni il Pescara e l'Ascoli intanto scrive il centro si spiano a vicenda gli 007 delle squadre in azione per scovare le mosse degli avversari Petrone blinda gli allenamenti Oddo invece rilancia Bruno trasferta calda come detto biglietti il rush finale a ieri erano stati venduti 1100 tagliandi acquistati dai tifosi del Pescara per la gara contro l'Ascoli Iaconi bravo Oddo la strada è quella giusta il tecnico Giuliese doppio ex gara da tripla ma il delfino può farcela la padula è da serie A così l'allenatore Giuliese Ivo Iaconi e noi invece adesso andiamo ad ascoltare quali sono gli umori sulla sponda ascolana in vista di questa partita Tanti addetti ai lavori dicono che la rosa dell'Ascoli non debba solamente pensare alla salvezza ma può puntare a qualcosa di più Io sono convinto che ci mancano 43 punti per salvarci questo è il mio punto di partenza perché la categoria che stiamo disputando è stata trovata con largo anticipo ottenuta più che trovata dal club con grande anticipo rispetto al programma e quindi è un dovere lottare con le unghie con i denti per mantenerla se poi durante l'anno dovessimo accorgereci di poter essere competitivi anche per altri obiettivi ce ne accorgeremo a gennaio non prima quindi in questo momento dobbiamo tenere la testa sull'obiettivo primario e principale che è la salvezza C'è grande attesa per questa sfida col Pestana una sfida di prestigio che può cambiare il campionato dell'Ascoli visto poi l'onda lunga dell'entusiasmo che si è creato col successo contro il Como ma secondo me no una partita non può cambiare il corso del nostro campionato diciamo che ci aspettiamo di continuare sulla falsariga di Como con il miglioramento fisico della squadra tattico che già si comincia andrà a vedere però è un campionato talmente lungo e massacrante che una partita non può cambiare le sorti della stagione e vedremo dunque cosa accadrà lo stadio del Duca ovviamente seguiremo tutto domenica all'interno di diretta stadio condotto da Andrea Costantini e i collegamenti per quanto riguarda Ascoli Pescara saranno curati da Paolo Lorenzetti andiamo invece adesso a parlare della Virtus Lanciano nostaggia da Versa quanto mi piacerebbe giocare al San Nicola il tecnico rosso nero e la trasferta di domani a Bari stadio affascinante dice serve una gara da grande squadra intanto ballottaggio tra Bacinovic e Paghera a centrocampo questi dubbi di da Versa rifinitura pranzo e partenza per Bari questo il programma odierno della Virtus che dall'allenamento di rifinitura aspetta risposte importanti per quanto riguarda la presenza di Marilungo che non dovrebbe essere convocato per problemi fisici e per sciogliere i dubbi sulla fascia solitamente occupata da piccolo infortunato da Versa potrebbe riproporre Di Matteo ma è tentato anche di utilizzare Lanini che potrebbe partire dalla panchina e subentrare nel corso della gara nessun problema per Ferrari al centro dell'attacco dove dovrebbe trovare spazio anche di Francesco sulla sinistra centrocampo ballottaggio Bacinovic Spaghera mentre Zeduardo dovrebbe essere confermato come Di Cecco difesa intoccabile con Casadei tra i pali lasciamo la serie B e ci occupiamo del calcio a 5 di Serie A bene i biancazzurri nell'anticipo Pescara un po' che rincioltezza stasera l'acqua e sapone senza Murillo domani il Montesilvano Pescara Cogianco è finita 4 a 2 andiamo avanti adesso e torniamo al calcio ad 11 la Lega Pro adesso la sesta giornata del girone B Vivarini si gioca la carta Cenciarelli il tecnico del Teramo i nuovi devono inserirsi meglio i biancorossi al Bonolis contro la Lupa Roma alle 17.30 il Tour de Force proseguirà poi mercoledì con il Pisa andiamo a sentire proprio le parole del tecnico Vincenzo Vivarini che ha esortato insomma la squadra anche ad una maggiore concretezza una maggiore fame e anche a guardare la classifica insomma il Teramo ha da recuperare diversi punti di penalizzazione per le note vicende giudiziare ascoltiamo Vivarini una settimana di grande lavoro in questo momento qua abbiamo bisogno di lavorare dobbiamo sistemare tante cose quindi c'è da lavorare la squadra diciamo in questo momento qua è molto disponibile e ha voglia di far bene quindi questa è la cosa più importante in questo momento qui perché comunque noi siamo abituati sempre a cercare i risultati con determinate cose con il lavoro con l'organizzazione con una mentalità giusta con un'aggressività giusta con la forza del del gruppo e questo di solito lo si costruisce in precampionato mentre invece noi quest'anno dobbiamo essere bravi a far di necessità virtù cioè nel senso che in poco tempo dobbiamo subito sopperire alle carenze che abbiamo dobbiamo guardare e cominciare a guardare la classifica perché noi siamo una squadra che sta penultima in classifica e quindi è importante affrontare la partita con la Lupa Roma con questo spirito non con pensando di essere una squadra forte bisogna questa è una novità a scuola ministra sì 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 è una novità perché per me dobbiamo assolutamente analizzare ed essere realisti perché bisogna che acquisiamo quella fame quella determinazione quella rabbia che praticamente è quello che ci permette di fare risultato se noi pensiamo di essere più forti la Lupa Roma sbagliamo di grosso loro hanno soprattutto in mezzo al campo quadri che c'è tantissima tantissima qualità e poi anche D'Agostino giocatori che la palla insomma sanno dove lo devono mettere le cese lì davanti fanno questo 4-3 1-2 abbastanza bene quindi dobbiamo essere affrontarli con un'umiltà veramente con grandissima umiltà Perrone medita sorprese nell'Aquila che ospita il Savona l'allenatore chiede sacrificio agli esterni d'attacco bisogna correre per dare equilibrio alla squadra andiamo ad ascoltare proprio il tecnico Perrone Stavolta non si può proprio sbagliare dopo tre sconfitte di fila l'Aquila è chiamata domani pomeriggio a fare bottino pieno contro il Savona in un match che si preannuncia come il primo vero scontro salvezza della stagione i rosso-blu dovranno fare a meno a centro campo di De Francesco squalificato mentre in difesa si dovrebbe rivedere Anderson al fianco di Maccarrone per rinforzare il pacchetto centrale che dovrà vedersela contro l'ex di turno l'attaccante Francesco Virdis la scorsa annata è il rosso-blu nonostante di lui si ricordi solo lo splendido gol contro l'Ascoli nel mese di gennaio curiosità Virdis ritroverà al fattore il ADS aquilano Alessandro Battisti con cui giocò a Chieti nel 2005-2006 nel suo primo anno tra i professionisti su Virdis e sul suo Savona le parole del tecnico dell'Aquila Carlo Perrone a margine della conferenza stampa della vigilia è un ottimo giocatore Virdis un giocatore da tenere sotto controllo perché veramente è un grosso realizzatore ma non c'è solamente lui ci sono altri giocatori importanti da cui dovremmo stare attenti è una partita molto importante perché è uno scontro diretto noi non ci nascondiamo noi insomma dobbiamo cercare di fare punti il prima possibile per allontanare le zone basse della classifica servizio di Gianmarco Menga chiudiamo con la serie D con il Giulianova ora rischia anche il DS Carrozzieri lunga riunione in società decisione rinviata dopo la gara con la Iesina il terzino Federico Delgrosso rilancia il Chieti a Pesaro per vincere e sognare è tutto per questa per questa rassegna stampa per l'appuntamento con Mattino 6 che ovviamente tornerà lunedì puntuale alle ore 7 il TG invece alle 14 e alle 19 grazie per essere stati con noi buona giornata grazie per la visione grazie per la visione